Uno dei momenti più belli delle cover insieme agli FL65 Ciao ragazzi Buongiorno Ci avete fatto un bambino Non è ancora finita la serata, c'è ancora qualcuno che deve suonare Avete il fuso orario notturno, noi abbiamo il fuso orario anni 90 Noi abbiamo solo il fuso È rimasto solo più il fuso, è anche più l'orario Anni 90-2000 che vanno tantissimo di tendenza, quindi non potevate mancare insieme a Fred De Palma Sì, è stato veramente bello, devo dire la verità Ci siamo trovati benissimo, siamo stati onorati che Fred ci abbia scelto Poi ci ha raccontato che lui, tra l'altro dove noi bazzicavamo, lui ci è cresciuto E quindi è cresciuto con il nostro mito Noi da tempo stimiamo quello che fa lui È tutto avvenuto come se fossimo parte di un'unica cosa Non c'è stata nessun tipo di difficoltà E questo secondo me ieri si è visto sul palco Eravamo sinceramente divertiti Molto, è anche la platea che di solito insomma non si scatena Quanto la galleria pure, erano tutti in piedi a ballare All'una e mezzo, cosa era? Erano quasi le due Sì, sì, ma era questo il nostro ruolo Il nostro ruolo era, ricordatevi che a un certo punto dovete salire Arrivano gli Eiffel e si svegliano tutti Eiffel e Fred ci servono in quel punto lì Quindi per prepararsi per la lunga diretta Prima il caffè, poi magari in quel momento in cui è Voi e quindi nulla No, invece io volevo sapere, da tanto tempo ve lo volevo chiedere Che cosa si prova ad essere poi all'inizio della colonna sonora di Iron Man? Ve lo sareste mai immaginato nel tempo della realizzazione di questo pezzo incredibile? Blu, no, quando fai musica non pensi oggettivamente a quello che sono Finirò colonna sonora di un film della Marvel No mai Me l'avessero detto, giuro mi sarei messo a ridere E non è che, cioè è successo quanti anni fa? 2012 2012 Voi considerate che Blu è del 99, diciamo, l'anno di notorietà E non è che ci mancava, non è che nella collezione di grandi cose non ce ne fossero già tante Cioè quindi era una roba ancora di più Però quella, cioè quando è arrivata quella Giuro che mi hanno comunicato la cosa Io mi sono dovuto fermare con la macchina E per un attimo dire, ma mi hanno veramente raccontato sta cosa? Ah beh, c'è un dettaglio che dire, divertente La cosa bella è che mi hanno detto Ti devo dire una cosa bella e una cosa un po' particolare Quella bella è che hanno scelto Blu per Iron Man La cosa particolare è che vogliono la versione in mandarino E l'ho dovuta cantare in mandarino Cinese mandarino E com'è? Cioè, allora, se digitate proprio su YouTube Blu mandarin version c'è E inizia proprio con Io ne menti non in amo ma gush Proprio parte così Ogni volta che te lo sento cantare mi chiedo se tu te la ricordi a me Per forza, mi hanno fatto imparare parola Ah, quindi così? Sì Io ne menti Tentasho, tentasho, tentasho Tentasho? Sì, era una roba del genere Ma poi il pezzetto è un blu oppure anche lì? No, 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 lì un blu è rimasto Però per il mercato asiatico hanno voluto la versione in mandarino Sì, la produzione originale era di Mista Sì, un po' americano, un po' cinese Beh, pazzesco, bellissimo No, io mi ricordo il mio capodanno del 2000 in Francia Sentendo la vostra versione in francese Noi eravamo lì Sì Noi eravamo lì Sì, sì No, la Francia No, noi abbiamo dovuto fare anche il servizio fotografico degli Eiffel Sulla torre Eiffel, capisci? Sì Avete scelto questo nome Sì Ma poi ci pensi che finisci veramente sulla torre Eiffel a fare Ci sono gli Eiffel che fanno la foto sulla torre Eiffel Ok Però almeno l'accento è diverso e c'è un numero È vero? Certo Vettura Eiffel Quando me l'hanno detto vi sono fermato nuovamente con l'auto, giusto? No Non avevo l'auto lì No, però ragazzi veramente siete arrivati in quegli anni lì Siete diventati subito dei miti Ieri sera si è visto E però io volevo sapere Insomma se in questo 2024 succederà qualcosa Ce lo volete raccontare? Sì, una roba molto bella Chiaramente si sono allineati una serie di pianeti Che sono ovvero la dance Che si è vista tanto sul palco dell'Aliston Proprio in questa edizione qua Ed è un momento per noi molto florido Perché tantissimi successi nostri Non solo blu Sono stati ripescati Per cui c'è una forte energia intorno al gruppo E sicuramente questa cosa si tradurrà Senza sicuramente In un nuovo disco per l'estate È una minaccia È una minaccia Ma che bello È una bellissima notizia Grazie finalmente qualcuno che arriva qua E ci fa un bello spoilerone Siamo felicissimi E così se non lo facciamo ci vengono a picchiare a casa Secondo me lo stiamo facendo per imporciolo Adesso se non dici è vero Ora l'abbiamo detto così tante volte Che se non lo facciamo ci picchiano Ora devi farlo Però scusate qualcosa è già stato messo in studio Qualche bozzo oppure ancora tabula rasa? Questo non lo dici Non lo possiamo dire Noi siamo gente che vive L'ossessione della musica Non la passione Quindi cioè Noi potremmo non fare più una pubblicazione D'altronde è andata anche un po' così Per anni Ma noi siamo sempre dentro uno studio a lavorare Anche solo per cose nostre Ricerche personali Per noi è un'ossessione Non è per forza una cosa legata a un risultato commerciale o economico Se così fosse Probabilmente non avremmo neanche fatto i numeri che abbiamo fatto Non si fa musica per soldi Però Metti i piedi Sono due anni che il mondo L'energia intorno a noi ci sta dicendo Da David Guetta Ai Bundabascia Al Festival di Sanremo Alla risposta Ci sta dicendo Ragazzi guarda che Non è che proprio Non avremmo voglia di vedervi Abbiamo fatto l'arena un sacco di volte La risposta Poi vabbè Noi comunque abbiamo 50-60 concerti A livello europeo e mondiale Da sempre Abbiamo 50-60 anni No perché se ce li avete voi ce li ho anch'io Parla per te Io ne ho 12 In una gamba E quindi A un certo punto rimetti i piedi Respiri l'aria per tre giorni E dici Dai ci può stare Non è una roba che forziamo Ci viene voglia poi a quel punto anche di competere E provare a fare qualcosa di nuovo A parte Fred De Palma Con chi vi piacerebbe Del nuovo panorama della musica italiana Collaborare Creare un nuovo vestito musicale Magari qualcuno che è sempre stato troppo melodico E vogliamo cambiarlo radicalmente Guarda mi aggancio alla esibizione di ieri Per darti la risposta Perché Per esempio l'ha fatto Guetta con l'R&B Facendo in modo che la dance europea Che era stufa Trovasse l'R&B e il rap Che era stufo in America E nascesse un mondo Che poi ha generato i festival più importanti del mondo Che fosse proprio unire le due tipologie di dance Quella europea e quella americana Ieri nel piccolo dell'Italia Secondo me è successo con noi Ci abbiamo preso Fred ci ha chiesto Che è un rappresentante che nasce dal freestyle Dal rap purista E poi diventa il re del reggaeton italiano E ha preso la dance nazionale popolare italiana Secondo me se io fossi stato un produttore In erba ieri a casa Avrei pensato Ah quindi si può Fare un freestyle o un rap Su una base dance E ottenere questa risposta Per un pubblico probabilmente giovane Così come per un pubblico anche molto adulto E questa secondo me è una cosa che Quindi se dovessimo scegliere Di andare in una direzione come quella Non sarebbe per niente male Quindi un altro esponente Magari di questa tipologia qui Poi che abbia tante cose in comune Con Fred non è così semplice No Di Torino Ha proprietà giusta Ha scelto di fare la dance Sì ha scelto di fare la dance Ha cresciuto con noi Quindi c'è un'affinità naturale Ecco Chissà che magari uscirà qualcosa con Fred E qua non spoileriamo niente Chissà C'è un po' Vabbè Tra l'abbè scelta Qui non spoileriamo niente No 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 ma non succederà No non sappiamo In realtà abbiamo diverse idee Quindi nelle prossime settimane Sicuramente una di queste diventerà realtà Va bene Non vediamo l'ora di scoprirlo Io ho capito che più di così Non riusciamo a sapere Abbiamo già detto tanto Fin troppo Siamo omertosi Perché non si vede che siamo omertosi Non si vede solo da me Aspetta che qua Siamo omertosi Cioè riesci a fare o sei? No sono veronese Veneta Caspi Grande Questa è difficile Questo è un doppio carpiato Una veronese che fa l'accento siciliano Un doppio carpiato È anche atterrato sui piedi Hai visto? Grandissimo Aspetta Tac Dalla vulghera di Sai i bulgari? T'ha pazzi Subito dopo c'è T'ha pazzi Occhio I mitici EFL 65 Grazie 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 davvero